Leonardo Silva Revisore Prima domanda che faccio un po' a tutti. Quanti di voi hanno già provato la realtà virtuale? L'ultima volta che ho fatto questa domanda un annetto fa erano in 3-4 persone. Questo già mi fa capire che si sta diffondendo in maniera molto più intensa di quanto mi aspettassi. Questo è un bene, assolutamente. Che cosa state vedendo adesso? State vedendo un esempio di realtà virtuale, qua c'è una Kanban Agile ad esempio, che usa dei dati presi da un'applicazione creata in Laravel. Questa è una parte del nostro prodotto. Faccio un passo indietro e mi presento. Ok. Mi chiamo Danilo Costa, sono il CFO founder di Coderblock. Sono un Laravel developer dalla versione 4.1 con la lagrimuccia. un appassionato di intelligenza artificiale, machine learning e realtà virtuale. Con il nostro team abbiamo creato un prodotto che consente di creare il miglior team di freelancer digitali, quindi marketing, sviluppatori e quant'altro, che consente appunto di portare un valore aggiunto a quelle società che attualmente cercano queste figure. In più abbiamo creato un workspace agile che consente all'azienda e al team formato di poter collaborare. Perché oggi sono qui? Perché l'applicazione è realizzata in Laravel 5.4 e in particolare abbiamo usato tutta una parte di API create all'interno del nostro back-end per quanto riguarda la realtà virtuale. L'obiettivo nel nostro caso è quello di aiutare in quello che è lo stand-up meeting dell'Agile, quindi di dare una possibilità ulteriore per far collaborare all'interno di un tavolo ovale un'azienda e il team che hai formato direttamente in piattaforma. Finita la marchettata, andiamo un po' a quello che è stato il mio primo approccio alla realtà virtuale. In effetti se ne parla tantissimo, ci sono stati tantissimi esperimenti, mi ricordo il Virtual Boy, comunque tanti tentativi che hanno creato negli anni. In effetti quando io pensavo alla realtà virtuale non vi nego che immaginavo qualcosa del genere. Immaginavo tante persone con la bocca aperta a guardare un mondo un po' strano. Le cose sono cambiate, non nelle espressioni che facciamo ma in quello che ci sta dietro e adesso c'è realmente la possibilità di utilizzare un back-end in Laravel e creare delle applicazioni in realtà virtuale. Sarà quello che noi vedremo oggi. Con Laravel 5.5 abbiamo visto tutta una serie di novità. Ci sono front-end preset, ci sono le API resource che Christopher ha stamattina nominato. In effetti prima di questa release avevamo i cosiddetti transformer e fractal. Questa è l'immagine che si mette sempre quando si parla di transformer e di fractal perché era uno dei pochi metodi che potevamo utilizzare, delle proprie metodologie per riuscire a formattare o a preparare il nostro output nelle nostre richieste API. Non so se si vede bene. Cosa avevamo qua? Avevamo quello che si definisce appunto transformer che ci consentiva di manipolare il modo in cui, il modo ma anche il nome dei campi ad esempio, il modo in cui andavamo a presentare tramite le nostre API quelle che erano i nostri model. Qui l'esempio molto banale è quello dell'entità user, avere la possibilità di rappresentarlo direttamente qui dentro. Qui c'è, in realtà, chi è stato più attento può vedere che c'è un errore. C'è uno string di un id ma, insomma, questo è prettamente un esempio. Phil Stargeon, che fa parte dei package del PHP League, ha creato fractal e ha scritto un ottimo libro per i tempi Build up if you want it. e ha dato anche delle alternative per cominciare a progettare un po' le vostre API a partire da un API controller. C'è un bel po' di logica qui dentro, ma i metodi più importanti erano quelli che vi consentivano di poter restituire un item eloquent o una collection eloquent. In maniera molto banale, in realtà avevamo il nostro controller, quando andavamo a prendere la nostra entità, ad esempio con questo find, la risposta era un respond with item in cui andavamo a utilizzare il nostro item e un transformer per riuscire a ottenere il tipo di risposta che avevamo già definito. O in alternativa una collection, quindi respond with collection era un metodo di quell'API controller che ci consentiva appunto di portare avanti questa logica. Oggi tutto questo giro, quindi controller, poi abbiamo questo API controller, poi abbiamo i transformer, tutto questo giro in qualche modo viene semplificato grazie all'utilizzo dell'API resource. Christopher ho già fatto vedere che basta fare un make resource ad esempio per l'entità user, in automatico viene creato un file del genere e questo two array possiamo andarlo a modificare utilizzando il tipo di formato che andavamo a specificare all'interno dei transformer. Non mi piace dire una soluzione meglio dell'altra, come in tutto nel nostro mestiere la risposta migliore dipende. In certi casi preferirei sempre continuare ad utilizzare Fractal o Dingo e in altri casi è utile magari cominciare a valutare alternative o approcci alternativi. Qua vi ho fatto un esempio appunto di user e profile perché volevo proprio far capire quello che era il tipo di entità che stavamo andando a costruire. Ma andiamo un po' al succo di questo talk. Parliamo appunto di VR, di realtà virtuale e di come possiamo cominciare a creare una primissima applicazione di base che utilizzi appunto il VR. Io ho già preparato le due alternative, se vedete queste due, la prima utilizza Fractal tramite una parola chiave include che vi consente di prendere o soltanto il vostro utente vrappato in un data in questo caso oppure includere anche la dipendenza del relativo profilo o in alternativa utilizzare direttamente un API resource per ottenere un formato pressoché simile. L'unica cosa che varia fra i due è che anche il profile viene vrappato tramite Fractal all'interno di un data, ma c'è anche lì un modo di poterci lavorare. A partire da questa sorgente di dati è abbastanza semplice, quello che andiamo a fare è capire intanto che cosa abbiamo attualmente in ambito VR. Abbiamo molte applicazioni legate all'ambito ludico, molti giochi stanno nascendo soprattutto nell'ultimo periodo, ma un ambito che sta realmente crescendo soprattutto in America è quello legato al concetto di remote working. Quanti di voi lavorano dal remoto, portano avanti le collaborazioni dal remoto? Un bel numero di persone hanno già cominciato a lavorare dal remoto, in agile viene anche più semplice poterlo fare. Molte applicazioni stanno portando avanti questo tipo di concetto, quindi non si parla più di realtà virtuale legata all'ambito ludico, ma è legata alla produttività. Questo è quello che attualmente il mercato ci dà a disposizione, l'Oculus Rift, l'HTC Vive, tantissimi altri visori, adesso uscirà l'Oculus Go, che sarà una via di mezzo fra smartphone e i visori ad alto livello, quindi un mercato sta cominciando a nascere. Che cosa effettivamente ci dà Unity, che è l'engine che utilizzeremo oggi, per costruire questo primo esperimento di realtà virtuale? Il nostro obiettivo sarà questo, costruire appunto una base, un pannellino dove vengono visualizzati i dati dell'utente. Ci dà l'Asset Store. La prima volta che l'ho visto ho subito pensato a Composer. La differenza tra un package e un asset, magari che quell'asset lo vai a installare direttamente all'interno del tuo engine, quindi all'interno di Unity, è un po' quello che faremmo noi con un Composer install. Facendo un po' di ricerche ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un API client all'interno del nostro engine, dovevamo prendere questi dati che in JSON abbiamo preparato. Ci sono tante alternative free e a pagamento. Noi ne abbiamo scelta una che ha entrambe le versioni, si chiama Best HTTP Pro, che costa sui 30 euro in realtà nella versione Pro e ci dà tante funzionalità, non mi danno nessuna provvigione, quindi siete liberi di sceglierne anche qualcun altro, ma ci dava tutta una serie di feature che a noi servivano. In realtà la cosa bella è che se uno vuole cominciare a fare degli esperimenti, vedremo che è veramente molto semplice creare una richiesta, un API client per prendere una GET o comunque fare riferimento al JSON che abbiamo costruito. Ci occorrono soltanto delle piccole accortezze. Ad esempio ci occorre un modo per serializzare il JSON che dobbiamo trattare, perché Unity di suo ha qualche problema nel farlo. Quindi utilizziamo un altro package che è JSON.NET per Unity, che ci consente di effettuare questo tipo di serializzazione. In più se vogliamo sviluppare per, adesso vi farò vedere anche le alternative, se vogliamo cominciare a sviluppare per gli ambienti degli headset legati a Oculus, quindi Oculus Rift o il Samsung Gear VR, ci occorre scaricare un pacchetto, un utilities, che ci consente appunto di avere tutta una serie di API, di interfaccia che possiamo utilizzare all'interno del nostro codice. In realtà non vi farò vedere tantissimo codice, perché non c'è tanto codice da sviluppare. Ho creato un board script, questo è un naming che si utilizza molto in Unity. Quando vuoi creare uno script e vuoi attaccarlo a un componente 3D, quello che vuoi fare è utilizzare il nome di quel componente e poi alla fine utilizzare script come parole finale del naming. Qui non faccio altro che effettuare l'inizializzazione di un client che va a prendere quella chiamata che vi ho mostrato poco fa e alla fine utilizza qualche callback o un request finished per effettuare appunto l'inizializzazione sui dati e quant'altro. Cosa vediamo qua? Sto utilizzando BestHttpPro per riconoscere questo HTTP request. Sto utilizzando System, che è uno dei package base di Unity, per fare un new URI, quindi poter creare un tipo di oggetto di tipo URL. In questo caso ci occorre soltanto per questa risorsa. Ci rifacciamo a HTTP method per capire che tipo di chiamata stiamo facendo, nella frattispecie stiamo creando una get. E alla fin fine utilizziamo, ovviamente settiamo leader, ma se voi vedete questa parte e avete già un po' di dimestichezza con altri linguaggi, non dovrebbe risultare troppo complicato capire cosa sta facendo. Sta creando una request. Bene, vedete che c'è anche un altro package, che è il package di cui vi parlavo poco fa, che è quel newtonsoft.json che ci consentirà appunto di effettuare una serializzazione del JSON che stiamo andando a trattare. Cosa più importante, se andiamo a cercare su Google JSON to C Sharp, c'è questo bellissimo JSON to C Sharp che ci aiuta in qualche modo nell'andare a formalizzare quella che è la nostra entità. Ad esempio, noi abbiamo qua noi user, abbiamo questo oggetto, banalmente gli passiamo direttamente l'oggetto qui, sarebbe magari prima meglio formattarlo giusto per essere un po' più ordinati. GenerateWithQuickType, nel nostro caso noi utilizziamo la versione 5 di C Sharp, otteniamo già la classe che ci occorre per poter riconoscere la nostra entità. Ci basta esclusivamente far questo. Già questo l'abbiamo fatto qui dentro. Adesso vi mostrerò esattamente che cosa state vedendo, vi spiegherò cosa state vedendo. E a noi basta, andiamo qui, creare direttamente qui una classe. Come si crea una classe qui dentro, banalmente, basta semplicemente mettere un CreateScript e ci restituisce la classe che poco fa ho costruito. Giusto un piccolo consiglio che vi do se volete fare degli esperimenti, togliete questo namespace QuickType, perché a noi non serve per quello che stiamo costruendo. Vi basta togliere questo e vi ritrovate la classe che abbiamo appena realizzato con tutte le entità e i field direttamente riconosciuti all'interno della classe. Ovviamente poi qua c'è tutta una serie di ottimizzazioni che andrebbero fatte, ma per cominciare a fare dei test e fargli riconoscere un'entità potrebbe essere già un primo passo. Adesso, andando avanti, dopo aver fatto il parsing, arriviamo direttamente alla nostra applicazione. Qual è il nostro obiettivo? Ripetiamolo, integrare un'API già realizzata in Laravel, mappare all'interno di Unity, come vi ho fatto vedere con quella classe che abbiamo costruito, questo tipo di entità, manipolare i dati in JSON, visualizzare poi i dati direttamente nell'environment e alla fine, quando abbiamo costruito tutto l'ambiente, dire a Unity, ok, ho costruito l'ambiente 3D, voglio poterlo utilizzare dentro un headset in realtà virtuale. Andiamo qui, per motivi di tempo abbiamo già costruito una base. Questa base è fatta esclusivamente da due script. Uno script che è appunto il nostro board script dove effettueremo la chiamata HTTP, è uno script in cui andiamo, quello che abbiamo appena costruito, andiamo a creare questa entità per riconoscere il nostro utente. Se apriamo questo, a parte una sintassi legata molto all'utilizzo di C Sharp, ci rendiamo conto che i metodi che non importano, o le righe che non importano, sono quelle che vi ho fatto vedere poco fa, e la riga in cui ci andiamo a inizializzare i nostri dati. Qua abbiamo banalmente dei attributi di tipo testo, che andiamo tramite questa stringa a deserializzare, a riconoscere dal formato JSON. Questo fetch user.fromjson altro non è, se non questa classe fetch user, che alla fin fine utilizza un JSON convert, che è quel package che abbiamo dichiarato all'inizio, che ci consente di deserializzare il nostro oggetto. Ora, la prima volta che vedete una cosa del genere, se non siete abituati alla sintassi di C Sharp, vengono tantissime domande. Ed è normale che sia così. Non appena comincerete a vedere un po', a studiare, a giocare un po', vi renderete conto che la sintassi rimane sempre la stessa. Al massimo puoi andarti a creare un API client un po' più formalizzato, puoi andare a gestire le eccezioni in un certo modo. Ma la logica, e quello che vorrei mandarvi oggi come messaggio, è esattamente questo. A noi all'interno di Unity non importa fare altro che prendere questi dati, inizializzarli in degli attributi interni a questa classe BoardScript, e al limite andare a inizializzare anche un'immagine. Noi avevamo questo oggetto, se non erro dovrebbe essere questo di qui, vediamo se ho preso l'ID corretto. Nel momento in cui io metto intanto play, ora non funziona nulla, sarebbe bellissimo, ok, vi vedete inizializzato l'immagine, ovviamente, ma un nome e un cognome creato con un faker, un'email e così via, un'username e così via. Che cosa abbiamo fatto per arrivare a questo risultato? Tutto parte da questo componente che si chiama Board, questo componente a parte tutto quello che riguarda Unity, che in questo momento può anche non interessarvi, all'interno ha collegato un BoardScript, che è quello che noi abbiamo costruito per effettuare la richiesta HTTP, e internamente in automatico vi ritroverete questi campi. Ma cosa sono questi campi? sono quelli che noi abbiamo definito direttamente qui, che abbiamo definito all'inizio. Bene, a partire da questi, possiamo andare a collegare i campi in cui vogliamo far visualizzare il valore, quindi in questo caso, per esempio, username, che è un campo di tipo testo all'interno di Unity, andarlo a collegare direttamente a questa variabile interna. Questo collegamento, che in effetti si effettua manualmente, proprio trascinando l'oggetto, andrà a dire a Unity, guarda Unity, ogni volta che vado a inizializzare quel campo da un punto di vista programmatico, devi andarmi a visualizzare il valore dove io ho messo esattamente questo field, ovvero qui. Questo ad esempio era lo username, quindi subito sotto l'immagine. è bastato collegare e trascinare questo oggetto per effettuare un mapping tra quello che a noi serviva e direttamente l'oggetto. In realtà è tutto qui. Non ho raccontato nulla di, come dire, di troppo trascendentale, ma bisogna un attimo capire che Unity è questo. Unity vi dà la possibilità di creare esattamente tutto collegando i pezzi. E' anche uno dei motivi per cui è il più semplice engine da andare a utilizzare. Ma non abbiamo ancora visto come bisogna passare dal 3D dell'interno dell'engine verso la realtà virtuale. Bene, esiste ormai uno standard de facto, si chiama VRTK, che consente con... vi consiglio di andare a guardare se avete interesse perché è fantastico. Vi dà la possibilità di mappare qualunque tipologia di headset con un API comune direttamente all'interno del vostro dispositivo. Quindi voi potete creare una build per PC se volete realizzare un'applicazione compatibile con Oculus Rift e HTC Vive o per Android se volete realizzarla per Samsung Gear VR o Daydream. E lui si occupa di tutto per voi. Per motivi di tempo non possiamo arrivare a questo punto, ma mi piacerebbe più che altro farvi vedere come noi possiamo effettuare esattamente una build. Per farvi vedere come funziona il tutto, quindi mettendo play come funziona tutto all'interno dell'ambiente, abbiamo utilizzato una camera che è generica di Unity, ma in realtà esiste un'altra camera che installando l'Oculus Utilities ci ritroviamo, che è lo VR Controller, ovvero questo di qui. Quindi questo di qui l'ho disabilitato, ho abilitato questo, vado a effettuare la build, quindi semplicemente in Build Settings su Android e effettuo la build che mi restituisce un'appi K che vado a inserire all'interno del dispositivo. Per motivi di tempo, questa cosa l'abbiamo già buildata, si prende 3-4 minuti in realtà, e l'obiettivo che otteniamo è esattamente questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo è il bello della diretta. I dati che abbiamo inizializzato vengono in realtà renderizzati all'interno dell'ambiente 3D che riconosce in questo caso il VR. Quindi il concetto qual è? Se si vogliono fare degli esperimenti con il VR, fino a un annetto fa non erano così semplici. Dovevi acquistare 1000 euro di visore o 600 nel caso del DK2 e dell'Oculus Rift. Oggi basta un visore da 90-100 euro e una versione gratuita di Unity. E questo vi dà la possibilità di cominciare a sperimentare davvero con la realtà virtuale. Ancora meglio nel momento in cui volete utilizzare un Laravel per gestire la vostra sorgente dei dati. O magari avete già un prodotto realizzato e volete creare un'alternativa magari per quell'effetto wow che vi consente appunto di entrare in questo nuovo mercato. Io dovrei aver finito. Giusto perché altrimenti il mio collega mi ammazza. Questo è il nostro team. In realtà i visori li avevamo tutti quindi abbiamo speso dei soldi dovevamo farne una foto per farli vedere. Visto che il primo talk è di questo tipo datemi tanti feedback così miglioriamo. Grazie a tutti.